Buongiorno lunedì 7 marzo, buon inizio settimana con Tg Mattina su TRG. Non è purtroppo un inizio di settimana fuoriero di buone notizie dall'est Europa dove il conflitto bellico continua ad imperversare. Apriamo proprio con le immagini di orrore e crudeltà proprio della guerra. Supplica Ucraina, scrive il messaggero, il presidente Zelensky all'Unione Europea, dateci gli aerei o moriremo lentamente. Draghi assicura sostegno, spari e bombe su chi fugge dall'orrore. E poi ancora le parole da parte del presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Rischio di blocco totale, PNRR, transizione, vanno riscritti. Questa è la richiesta del governo proprio del numero 1 di Confindustria. E poi per quanto riguarda la parte regionale, in primo piano sul messaggero per l'Umbria, Covid, il colpo di coda, salgono i contagi. Questo riguarda un po' tutta Italia. Ovviamente in aumenti casi giornalieri l'emergenza non è finita, sottolinea Andreoni. E poi da gubbio, notte folle, movì da folle, 80 ragazzi ubriachi circondano l'auto di una donna, danni e paura, scrive subito il messaggero in primo piano. Veniamo alla nazione, sparano su chi fugge, scrive proprio il quotidiano con tanto di foto dei corpi, dei civili uccisi mentre scappano proprio dai luoghi di guerra. Civili bersagliati, evacuazioni sospese, il grido di Kiev, dateci gli aerei o siamo finiti. Ma Putin, nessuno si azzardi e la Polonia nega i jet, proteste in patria contro lo zar. Dalle città intanto, per quanto riguarda l'Umbria, Alex Dimitri fino al confine per salvare sette persone, il giocatore della Sir Perugia, Plotnischi, fresco vincitore della Coppa con la formazione bianconera Coppa Italia, dedico il trionfo al mio popolo, ha detto lo schiacciatore ucraino, trovato morta da Sisi dentro casa, spettro dell'overdose e poi polemica con l'ospedale, vittime di mafia libera all'attacco. Quindi, passando proprio alle notizie di carattere nazionale, l'invasione dell'Ucraina dal messaggero, scontro sugli aerei a Kiev, così ci lasciate morire. Via libera USA, ma la Polonia frena sui jet Putin, chi li manda è in guerra con noi. L'accusa di Zelensky, dove l'Occidente Draghi lo chiama, sostegno e assistenza. Il Cremlino per ora non cede alle pressioni dei mediatori, Kiev smetta di combattere, previsto per oggi un nuovo round di colloqui, sarebbe il terzo, gli ucraini da noi, aperture solo sulla Nato, sottolineano. E anche sulla nazione, vedete, statue coperte, messe nei bunker, così Leopoli si prepara alle bombe. Il cristoligno qui, raffigurato al sicuro, come nella Seconda Guerra Mondiale, la popolazione prega e aspetta il peggio. Quindi, le parole del generale Tricarico, ex capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, che dichiara l'attacco nucleare a diverse fasi, ecco i piani e cosa può accadere. Gli scenari, secondo Tricarico, che si aprirebbero con il lancio di missili atomici, Putin potrebbe lanciare un ordigno tattico su un singolo obiettivo, in quel caso la Nato non reagirebbe. Le parole di Tricarico, la risposta flessibile, impiega una reazione uguale e contraria, ma il vero incubo è l'escalation, sottolinea ancora. Tornando al messaggero, i nuovi scenari. Bonomi, riscrivere il PNRR, ora la ripresa rischia forte. Il presidente di Confindustria chiede di rivedere le tappe della svolta green, quadro compromesso dall'impatto dei prezzi energetici e delle sanzioni. 45 sono gli obiettivi del PNRR, da raggiungere entro il prossimo 30 giugno. 63 il numero di riforme che il nostro Paese deve attuare nell'ambito del piano. 191,5 l'importo complessivo del piano in miliardi. 68,9 sono erogazioni a fondo perduto. Mattarella nella Chiesa degli Ucraini. Faremo tutto quello che si può messa a boccea nella Basilica di Santa Sofia. I rettori romani si sono comportati come fratelli. Il rimbalzo della pandemia, altra tematica che sarebbe in primo piano se non ci fosse appunto il conflitto bellico. Covid, risalgono i contagi, è diminuita l'attenzione. Non solo i casi giornalieri, in aumento anche il rapporto tra positività e tamponi. Andreoni, nessun allarme, ma pensare che l'emergenza sia già finita è un errore, sottolinea. Anche Sebastiani del CNR frena la discesa della curva degli ingressi in terapia intensiva, sottolinea. Mentre per quanto riguarda ancora la polemica legata al Green Pass, parla in questo caso Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, inutile va abolito sin da subito, scrive sui social Giorgia Meloni. Passando invece alle notizie di carattere regionale dal Corriere dell'Umbra, è di fatti proprio la situazione legata alla pandemia. Covid non sconfitto, impennata di positivi. Torna sopra i 10.000, il numero degli Umbri attualmente contagiati, in un giorno diagnosticati mille casi in più. Intanto migliaia di ucraini restano prigionieri di rifugi di fortuna. Con la fotonotizia centrale che riguarda lo sport, il trionfo della Sir Perugia, il 3-1 su Trento, vale la Coppa Italia alla Unipol Arena, poi ne parleremo. Mentre per quanto riguarda ulteriori approfondimenti di carattere sportivo, calcio sere B, grifo beffato, Lecce salvo al novantesimo, finisce 1-1 al Curi, Ternana K.O. Il Vicenza passa vittoria per 3-1 contro le fere della squadra Veneta. Poi ulteriori approfondimenti, bassa al posto dei treni su due linee da Perugia, Terni, lo chef trotti fra i 100 migliori d'Italia, Foligno, festa del cioccolato che diventerà annuale, Città di Castello, caserma carabinieri acquisiti il terreno, Aspoleto, concorso teatro lirico, designati gli otto vincitori. Ancora da Perugia vende alcol fuori orario consentito, multe di oltre 6.000 euro per un barista, mancato rispetto dell'ordinanza comunale. Mentre da Gubbio, Sant'Ubaldo, festa in Basilica per la canonizzazione. Veniamo anche alla nazione, dunque. Il trionfo e il dolore mette in primo piano il risalto, proprio il quotidiano. Il trionfo e il dolore è quello di Ole Plotninsky, schiacciatore della Sir Perugia, che vince la Coppa Italia e lo schiacciatore ucraino, dedica proprio la vittoria al suo popolo, con tanto di bandiera assieme alla Coppa. Migliaia di chilometri per dare aiuto ancora Alex e Dimitri in furgoncino da Foligno, fino al confine tra Polonia e Ucraina, hanno salvato sette profughi. Quindi, per quanto riguarda il box a destra, vittime di mafia, negata la lettura dei loro nomi e libera sinfuria l'azienda ospedalera, chiarisce. Da Terni parla l'assessore Melasecchi, la fondazione Carit acquisti l'ex sede della Banca d'Italia, mentre polizia cita di Castello controlli serrati nel mirino, oppure le baby gang. Sotto la testata ancora la cronaca da Sisi, lo chiamano al telefono, non risponde per ore, trovato morto in casa, c'è l'ipotesi overdose. E poi, allarme Covid, sono irrisalite i nuovi positivi, la pandemia non è ancora sconfitta, testimonia anche la nazione. Quindi, nei box in basso, sanità, serve un macchinario, molte vite sono a rischio, l'appello dei professori Martelli e Velardi. Mentre da Foligno, polemica sulla riduzione dei servizi, Italia e Lex Ompi, uno schiaffo alla dignità, dichiarano dalla città della Quintana. Passiamo al messaggero. Si fingono dell'Inps per entrare nei conti correnti. Attraverso finte mail o messaggi dell'Istituto di Previdenza, riescono a ottenere le coordinate. Quindi, la lotta al virus Covid, altri 1132 casi, c'è un cluster, tre motivi della risalita della curva. Da Gubbio, l'abbiamo visto anche sulla prima pagina nazionale, movi da sciocchi, no, tanta, cercano un'auto con una donna alla guida. Gubbio, ubriachi e bottiglie di birra in mano, danni alla macchina. Mentre da Terni, blizza Largo Cairoli, residenti esasperati, fanno arrestare uno spacciatore. La fotonotizia, anche in questo caso, riguarda il trionfo della Sir Perugia in Coppa Italia, 3-1 contro Trento, una coppa da giganti. In primo piano il presidente Gino Sirci, assieme a coach Nicola Gerbic, che poi sentiremo. Per quanto riguarda invece la guerra in Ucraina, a Perugia, 40 famiglie pronte a ospitare i profughi, a piedi da Foligno, a Santa Mere degli Angeli, per la pace. E poi ancora, consegna record di farmaci per i feriti ucraini. Quindi, Perugia ancora, super vigili, prova di forza per il concorso, per quanto riguarda i 12 posti in palio, e le varie prove per sostenere l'esame, per entrare appunto nel corpo. Per quanto riguarda invece le notizie di carattere sportivo, Perugia contro la capolista Lecce, in 10 per un tempo, è in vantaggio, pari Beffa nel finale, finisce 1-1. Serie C e Serie D, il Gubbio stende la vispesa, poi approfondimento nel corso di TG Mattino, il Foligno invece vince in trasferta, 3-0 per entrambi il risultato vincente, per la Ternani invece un'altra brutta sconfitta, in caffa del Vicenza, ora ci penso io, dichiara infuriato il presidente Bandecchi. Veniamo quindi proprio agli approfondimenti dai quotidiani sempre di carattere regionale. Corriere dell'Umbria, io combatto dall'Umbria. Inna Kaczyrovska, 40 anni, madre di due figli, sta seguendo tutte le operazioni di aiuto ai profughi. Da 16 anni a Perugia, ma con il cuore nella sua terra, sarei pronta a mettere la divisa, ha detto Inna. Parrocchia, Caritas e Croce Rossa ci stanno dando un enorme aiuto per quanto riguarda le corsie solidali a cui si attinge dall'Umbria per l'Ucraina. Nella mia casa due bimbe con le loro mamme, Vera Bugayeva russa, emblema di altruismo senza bandiere da Città di Castello, ora le piccole giocano serene e tranquille. Ancora da Perugia, pacchi pieni di strumentazioni, medica, raccolti e spediti. Il presidente della Ollus, Naso Sano, il dottor Puglia Degani, abbiamo connessioni con colleghi a Odessa e Leopoli, abbiamo già spedito un primo carico, dichiara proprio Degani. Il viaggio è stato possibile grazie all'intervento del Rotary e poi ancora Pace, 300 in corteo, a Terni sfilati in centro per dimostrare il sostegno alla comunità ucraina residente in città. Il ristoratore Andrea Repko occorre dire basta a missili e bombardamenti. In 300 hanno sfilato fino alla sede della Camera di Commercio per invocare la Pace, intanto verrà attivato in comune uno sportello per offrire tutte le informazioni utili, servono urgentemente medicinali, garze e disinfettanti per quanto riguarda gli aiuti. Cammino di preghiera per dire no alla guerra, da Foligno a Santa Maria degli Angeli, a piedi, nonostante il freddo sotto lo slogan Siamo tutti fratelli. Sarà attivato anche un servizio ascolto a partire da questo pomeriggio nelle diocesi per aiutare chi ne ha bisogno. Veniamo quindi ancora alla situazione legata al coronavirus, impennata di contagi, si torna sopra i 10.000 in 24 ore, 1.123 nuovi positivi, casi soprattutto tra i giovani, ci sono 43.000 persone che non fanno il booster, la terza dose. Ospedali ok, i degenti sono in diminuzione, sono passati da 141 a 135. E poi ancora quarte dosi, 106 nella prima settimana, i fragili con sistema immunitario compromesso che possono fare il richiamo, sono indicati dai medici. E poi Novavax non convince, solo 311 prenotati per marzo, sono state fatte 212 iniezioni del preparato proteico e ne sono state consegnate 14.400. Da oggi anche inoculazione a casa per chi non può spostarsi. Trasporto pubblico locale, la regione spende 62,7 milioni per il servizio. L'indagine elaborata dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa per ADN Cronos fa riferimento a contratti di servizio e noleggio mezzi. Umbria a metà classifica, anche Perugia e Terni si attestano in una posizione intermedia per quanto riguarda le province. Per i trasporti ferroviari, linee Orte-Ancone, Eterni, Rieti, Rischio Bass ogni lunedì di marzo. Possibili conseguenze anche in Umbria per i lavori alla stazione di Orte. Ancora la cronaca dal Corriere. Alcol dopo mezzanotte, stangata da 6.666 euro, maximulta per un locale del centro storico, venduta a birra dopo l'orario consentito dall'ordinanza comunale. Intanto ancora la cronaca, stuprata dal Branco, arrestati al riesame. I due albanesi chiedono di tornare in libertà e all'appello mancano ancora due persone denunciate dalla vittima e dunque caccia ai complici. Polizia, valigette rubate e ritrovate in un parco, sempre nel Perugino, il valore della re furtiva di 1.500 euro. E poi Concorsopoli, oggi l'incarico per trascrivere le intercettazioni. In Aula via, le prime testimonianze, si parte dagli ufficiali di polizia, giudiziaria, della Guardia di Finanza che hanno indagato. Sono state fissate udienze per tutto il mese di marzo per quanto riguarda il processo alla sanità regionale. E poi, giornata dei giusti, Perugia, omaggia Sakharov e Strada. Cerimonia alla biblioteca di San Matteo degli Armeni, l'assessore Varasano, impegno a essere operatori di pace. I nomi scelti sono stati proposti tra gli altri da Amnesty, Libera, Associazione Vivi il Borgo, Emergenzi, Fondazione Centro, studi Aldo Capitini. Quindi, per quanto riguarda invece la nazione, questa storia che arriva da Foligno, abbiamo portato via sette persone dall'inferno. Alex e l'amico Dimitri da Foligno al confine ucraino con un furgoncino carico di aiuti. Sono tornati in Italia con sette profughi. Questa è la foto postata su Instagram proprio da Alex. Forte solidarietà da Foligno e Spoleto, inviati beni di prima necessità per le famiglie che scappano dalle bombe. e poi ancora raccolta fondi nelle parrocchie dell'Umbria avviate dall'archidiocesi. Quindi, lo sport che vuole la pace, la Sir Perugia in trionfo, Plotninsky per l'Ucraina, i Block Davids vincono la Coppa Italia, lo schiacciatore fermate la guerra, fu gli spalti oltre 400 tifosi perugini e lacrime di OLE sono anche le nostre. Qui abbracciato assieme al palleggiatore della Sir Traviz, Plotninsky ha anche promosso nei giorni scorsi una raccolta viveri per il suo popolo, parla anche l'assessore Pastorelli in un momento così delicato, difficile cupo per l'evoluzione appunto del conflitto in Ucraina. Questa vittoria della Sir rappresenta un momento di gioia non solo per lo sport perugino ma per tutta la città, sottolinea Clara Pastorelli. Qui le foto proprio di Plotninsky con la bandiera ucraina sotto i Sirmaniaci che appunto hanno anche testimoniato per la pace all'Unipo all'Arena di Bologna. Quindi ancora sotto i riflettori agite presto la vita di molti malati è a rischio a Pella Regione e azienda ospedaliera dai professori Martegli e Velardi serve una speciale strumentazione per radioterapia sottolineano a Massimo Fabrizio Martegli e Andrea Velardi personalità storiche dell'ematologia perugina. Il macchinario attuale non permette per quanto riguarda i trattamenti oncologici più di due trapianti al mese a fronte della richiesta di almeno quattro interventi. Intanto uno studio internazionale risulta da uno studio internazionale risulta grandi risultati ottenuti a Perugia la rivista Blood Advances guarigione definitiva in oltre il 70% dei casi sul trapianto dei pazienti malati di leucemia acuta mieloide ad alto rischio. Quindi ancora la cronaca trovato morto in casa a 53 anni si indaga tutto campo a dare l'allarme ai familiari non si esclude l'overdose l'autopsia chiarirà le cause del decesso ancora i risaliti intanto gli attualmente positivi oltre 1100 in un giorno continua invece la discesa dei ricoverati per covid e le vaccinazioni sono sostanzialmente ferme messaggero si fingono dell'Inps per entrare nei conti attraverso finte mail o messaggi dell'istituto ottengono le coordinate allarme lanciato dall'ANMIC ci arrivano decine di segnalazioni e poi ancora covid altri 1132 casi c'è un cluster tra i motivi della risalita della curva per quanto riguarda la situazione regionale quindi ancora da Perugia sicurezza ecco i supervigili concorso a metà aprile tra i test c'è la corsa un chilometro in 5 minuti in palio 12 posti non più prevista la prova in moto 8 al lavoro già a giugno e poi donazioni all'AUC nella due giorni dedicata all'arte e alla solidarietà dai controlli nei parchi spunta anche un tesoro di attrezzi da lavoro a Fontiveglie segnalata la presenza di due sentatetto che dormono nella pista dove i ragazzi fanno skateboard e poi Fioroni Caparvi Monteluce assurdità del PD il caso che riguarda il quartiere della comunità di Monteluce a Perugia e poi ancora giornata antimafia attenzione libera ospedale imperversa la polemica dopo una nota di libera che spiega come l'azienda ospedalera abbia negato lo spazio davanti all'ospedale per letture dei nomi delle vittime della mafia questo dunque sul messaggero veniamo altri approfondimenti di carattere comprensoriale partendo dal Corriere dell'Umbria e partendo da Gubbio Sant'Ubaldo allontani il male e riporti la pace tra tutti i popoli l'invocazione dalla Basilica in occasione degli 830 anni della canonizzazione qui con tanto di foto dei protagonisti anche della festa dei ceri rimasta sospesa ormai da due anni ripetuta la cerimonia del capo 10 Alessandro Nicchi che guiderà il cero del patrono il prossimo 15 di maggio per quanto riguarda appunto Sant'Ubaldo e poi Umbertide invece navigazione in internet studenti e genitori a lezione dagli esperti iniziativa di Lions Club e primo circolo con l'ingegnere Piero Fontana esperto del settore che ha appunto caratterizzato l'intervento promosso ad Umbertide Città di Castello caserma dei carabinieri nell'area di Viale Europa acquisito terreno comunale i consiglieri Leveche e Rossi di Fratelli d'Italia e Lignani Marchesani di Castello Civica chiedono certezze sui tempi di realizzazione e incremento di organico microcriminalità stretta sui controlli sempre nel Tifernate sono stati eseguiti da Polizia di Stato Municipale attenzione soprattutto al fenomeno delle baby gang passando a Foligno festa del cioccolato buona la prima sarà appuntamento annuale sottolinea il presidente di Confcommercio Amoni soddisfatto per l'evento e dal 18 al 20 marzo arriva anche il mercato europeo per quanto riguarda Foligno e la nuova Kermes dedicata al cioccolato sanità casa di comunità necessaria della regione Cidipensi dalla Spicigiele chiedono un confronto full esclusione della città dai 106 milioni del PN RR veniamo anche a Spoleto lotta alle dipendenze serve l'aiuto di tutti appello del centro di solidarietà a sostenere i progetti il presidente Don Bartoli numerose richieste di supporto dalle famiglie e poi Don Matteo messo in onda confermata a fine mese non si esclude il ritorno di Terence Hill intanto nella fiction che ha visto il passaggio di consegne con Raul Bova e poi 8 marzo cinema marti incontri per celebrare la donna alla Rocca Albornoz si sarà entrata gratuita e poi per quanto riguarda ancora Spoleto e lo sperimentale scelti gli 8 vincitori del concorso per i giovani teatro lirico sperimentale di Spoleto a loro saranno con risposte borse di studio per il biennio 22-23 e debutteranno nella prossima stagione lirica al secondo posto in Caluina soprano originaria proprio di Leopoli zona ucraina dove sta imperversando purtroppo il conflitto bellico come abbiamo già visto in precedenza veniamo a Terni Trotti nel gota dei migliori chef d'Italia dopo essersi lasciata alle spalle la tragedia della concordia e il covid il ristoratore ha superato le selezioni per il contest culinario l'obiettivo è vincere proprio il contest organizzato da Simone Falcini per Umberto Trotti mentre la Will apre la campagna elettorale per le RSU di sanità e denti locali premiati sempre da Terni carabinieri con 50 anni di carriera presidio invece sotto Palazzo Spadi in difesa del diritto alla salute oggi alle ore 11 appuntamento nella sede della CGL per non dimenticare Barbara Corbin alla vigilia della giornata internazionale della donna oggi alle ore 16 ci sarà questa manifestazione mentre sempre oggi torna a riunirsi il Consiglio Comunale si discuterà anche la variante di Villa Palma sempre da Terni Adad 3200 malati nel Ternano il disturbo da deficit di attenzione a DHD per dirla tutta il disturbo da deficit di attenzione e iperattività colpisce 220 minori oltre agli adulti e condiziona fortemente la vita quotidiana dunque a DHD acronimo di Attention Deficit Iperattivity Disorder patologia sottovalutata per i bambini le conseguenze si vedono anche a scuola in città l'unico centro di riferimento proprio a Terni che opera a livello regionale intanto due percorsi formativi per educatori e operatori iniziativa del CESVOL nell'ambito del progetto New Generation Community chimica la crisi alimenta la precarietà l'ex sindacalista Camilli interviene a proposito del congresso della FEMCA CISL mentre al Teatro Secci si accendono i riflettori sul tributo a Lucio Dalle il ricavato della serata sarà devoluto alla fotazione Ambo Life ospite d'onore Lalo Cibelli che ha collaborato proprio con il cantautore bolognese disperatico erotico band è composta da quattro musicisti che accompagnano le voci narranti paraprasando proprio una notissima canzone di Lucio Dalla Narni poste in rosa alla stazione solo donne allo sportello Giuliana Fantauzzi dirige un team composto da undici impiegate a Narni qui tutte in foto le impiegate assieme alla direttrice Giuliana Fantauzzi che era prima a sinistra e poi ancora da Orvieto un percorso tra arte e musica nel segno di Emilio Greco lo spazio convegni all'interno di Palazzo Soliano ospitare un evento organizzato con una visuale tutta al femminile ancora da Narni sanificatori d'aria contro virus e batteri nelle aule del Gandhi intervento nell'istituto grazie al decreto sostegni e ancora da Narni distribuite borracce agli alunni di tutte le scuole al via il progetto che punta a ridurre la produzione di rifiuti ad abbattere il consumo di bottiglie d'acqua in plastica veniamo anche al messaggero ripartendo ancora da Gubbio movì da shock donna circondata in auto 80 ragazzi ubriachi bloccano l'automobile in via Savelli della Porta in pieno centro storico bottiglie di birra danni e paura portiere chiuse nella speranza che passasse la follia una settimana fa famiglia quasi in ostaggio e un ragazzo ferito sempre alle porte del centro città di Castello polizia in strada per i controlli sulle baby gang a Montoni invece chiesti incentivi per i medici di famiglia Todi le forze in campo in attesa delle comunali per quanto riguarda la situazione politica che continua a tener banco ad Assisi invece domani il camper rosa della polizia in occasione della festa della donna veniamo anche a Foligno fratelli tutti per l'Ucraina molto partecipato il cammino di preghiera da Foligno Assisi per chiedere la pace fondazione Arca del Mediterraneo e Caritas pronte a sostenere le esigenze dei profughi intanto all'irico proseguono le aduizioni libere lo chef spoletino Jacopo Martellini nuovo volto del gambero rosso tra pinze iniziative benefiche e di solidarietà e poi ancora loro verde l'agraria viola ancora in testa alla classifica per quanto riguarda il premio come miglior olio extravergine DOP dell'Umbra nel concorso loro verde veniamo a Terni Largo Cairoli i residenti fanno arrestare un pusher l'operazione della polizia scattata grazie alla collaborazione di cittadini esasperati l'uomo spacciava cocaina a tutte le ore gli scambi avvenivano tra le auto in sosta questo riportato dal messaggero e poi per la sanità a Milcare Parisi verso il vieto per rilanciare la chirurgia da Lugnani in Teverina topi nelle aule il sindaco chiude la scuola dopo la scoperta di escremente abbiamo fatto subito una sanificazione con esche e trappola detto il sindaco Gianluca Filiberti e poi dalle marmore rifiuti selvaggi servono le telecamere la strada che porta alla cascata e una discarica la proloco è stata ripulita dai volontari quindi ancora da Terni la situazione di sostegno per l'Ucraina consegna record di farmaci in un solo giorno il ternano Bartolini ha raccolto 52 bancali di medicine per curare e salvare i feriti ucraini il mandato è arrivato dalla regione su input dell'Europa dispositivi per la rianimazione il momento è drammatico il popolo della pace ha sfilato in corte per le vede di Terni contro la guerra comizio finale in largo Don Minzoni la casa in vendita l'ora insaputa altri casi che continuano per quanto riguarda una vera e propria tentata truffa immobiliare scoperta per caso dal figlio della proprietaria di un attico in zona cospea a Terni e poi Polino allerta per i lupi ma gli abitanti li curano i residenti del piccolo comune della Valnerina abituati a convivere con questi animali vanno protetti dichiarano veniamo anche alla Nazione proprio per quanto riguarda ancora le città campionato che è successo ok anche per le elementari non potevamo lasciare fuori più piccoli cosa abbiamo deciso di aprile primarie adesioni last minute e prolungamento delle sfide in calendario le scuole in gala sono diventate 30 oltre 800 gli alunni coinvolti seguiti da docenti tutor e poi da Gubbio anniversario della canonizzazione la fede di Gubbio investitura del capodietti di Sant'Ubaldo una tappa forte della lunga vigilia della festa dei ceri qui in foto proprio Alessandro Nicchi con Don Giuseppe Edoardo Amedei Paolo Procacci e Don Pietro per quanto riguarda la messa in basilica della canonizzazione controlli nei parchi ancora nel Perugino rubata alcuni giorni fa e restituite dagli agenti a legittimo proprietario delle valigette piene di attrezzi e poi giornata della donna primo appuntamento se sarà foligno lo spettacolo teatrale il mito della bellezza sempre da foligno i tagli tolgono dignità agli anziani riduzione dei servizi sociali e riabilitativi agli ospiti della ex OMPI la voce di un'operatrice del servizio civile quindi presentazione da parte del giornalista della Gazzetta dello Sport Valerio Piccioni a Palazzo Comunale di Spoleto del Libro i signori del doping e poi polizia controlli serrati contro le baby hand e l'allarme furti da città di Castello da Norcia la fiaccola della pace a Madrid appello alla luce di Benedetto da Trevi salute iniziativa pubblica promossa dal PD ingiusto che possa curarsi solo chi può pagare dichiarano appunto da Trevi per quanto riguarda questa iniziativa promossa dal partito democratico la fondazione Carit acquisti l'ex sede della Banca d'Italia appello di Mela Secche a Carlini dopo la pubblicazione del bando di vendita potrebbe ospitare il museo della città questo dunque l'accurato appello dell'assessore regionale Enrico Menaset verso Terni l'utilizzo c'è solo l'imbarazzo della scelta centro di cultura di altissimo livello questo è il futuro visto proprio per la sede ex della Banca d'Italia si intervenga sul disagio dei giovani dalla parrocchia San Giovanni Battista si è tenuto il terzo tavolo di ascolto e mi prendo cura di te il disagio giovanile e poi da orvieto ampliamento della discarica fare chiarezza questa è la domanda che il consigliere comunale DEM Federico Giovanni rivolge alla giunta regionale proprio sulla tematica chiudiamo dunque questa prima parte diciamo di TG Mattino con anche l'album del Corriere La vita di Ornella Vanoni raccontata in un film al cinema Concordia di Marciano la storia di una delle cantanti più amate questo anche nell'ambito degli eventi per la festa della donna e poi Alessio Boni al Morlacchi nei panni di Don Quixote nuovo appuntamento per la stagione teatrale di Perugia mercoledì il primo spettacolo giovedì intanto faccia faccia con il pubblico l'incontro tenuto dal professor Alessandro Tinterri mentre da città della Pieve un libro per parlare di sentimenti la presentazione del romanzo Rosa stacca la spina di Ivan Nogarotto si terrà domani alle ore 17 presso la sala grande di Palazzo della Cornia propria città della Pieve e possiamo passare così alla pagina sportiva ripartendo però dal Corriere dell'Umbria che sotto questo punto di vista dedica proprio la copertina vedete la prima copertina interna alla Sir Perugia la coccarda tricolore che viene alzata al cielo della Unipol Arena dal presidente Gino Sirci e Tris di Coppa per quanto riguarda la Sir per la fantastica Sir la Coppa Italia è tua dopo sentiremo proprio le parole di Coach Ghirbic intanto Perugia supera Trento che parte male sfiora il 2 a 2 prima di cedere definitivamente decisivo Lex Giannelli Leon MVP incontenibile 21 punti di un grande ricicli anche Anderson in doppia cifra terzo successo Block Davids nella manifestazione in 6.000 sugli spalti per Perugia 8 ace Mengozi è perfetto il centrale che sostituiva la coppia azzurra Ricci Russo è stato davvero grande protagonista della partita squadra di campioni sottolinea nel suo editoriale Luca Mercadini il Golden Boy Michelietto ne fa 19 per Trento Caseschi scrive 16 ha referto 49 punti e lo scorre invece di Leon nelle 2 giorni di Final 4 conditi da 7 ace ieri per il capitano 23 segnature Sirce al settimo cielo bellissimi espietati Mengozi Highlander non ci accontentiamo il mio primo trofeo allenatore in Italia sottolinea Gerbic poi lo sentiremo Plotnischi dedicato al popolo ai soldati ucraini Capitale Leone emozionato e orgoglioso io ex ma esulto invece ha detto il palleggiatore Giannelli che ha messo a terra l'ultimo punto della partita ma sorride anche Bartocini Fortinfissi Perugia Perugia c'è prova di forza Bartocini Fortinfissi trascinata da Avelkova non da scampo al Valle Foglia tre punti d'oro in chiave salvezza abbiamo dato il massimo su ogni palla sottolinea di ben 15 punti nella vittoria per 3 a 1 contro la squadra marchigiana dell'ex Carcasses e Cecchetto e poi l'altra copertina che riguarda il Perugia Grifo che peccato si legge proprio sul Corriere dell'Umbria in primo piano il veleno è proprio nella coda per il Perugia in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo per il cartellino rosso a Juan il Grifo si rimette in marcia dopo le sconfitte con Benevente Brescia un rigore al novantesimo trasformato da coda regala il pari a Lecce e pareggia il guizzo vincente di Olivieri ex della partita ben 44 minuti solo 44 minuti giocati in 11 per Alvini che poi ha ridisegnato un 4-3-2 delusione e rabbia per i 4.663 del Curi per anche delle pagelle con Burrai che entra in corsa e garantisce alla squadra esperienza lucidità e calma Cicizola salva pure il risultato 7 e mezzo per il portiere del Grifo parleremo del Perugia poi nella rubrica del caffè con un approfondimento piuttosto importante proprio sulla partita con il Lecce ma in generale sul tifo bianco-rosso Alvini orgoglioso del Grifo c'è solo da essere contenti di allenare questa squadra ha detto l'allenatore della formazione bianco-rossa l'ora del bilancio nell'ultima tre gare abbiamo raccolto meno di quanto meritato e poi confusione fere Vicenza olè la Ternana regale il primo tempo ed esce con le ossa rotte dalla trasferta veneta poi le doppietta di Dio terzo gol di Teodorcic nella ripresa segna Donnarum ma non serve difesa fragile centocampo travolta attacco impalpabile finisce tra uno per il Vicenza che esulta dunque contro la Ternana siamo arrivati in ritardo sottolinea Bandecchi nel primo tempo non eravamo in campo problema al pullman dice in maniera ironica il patron delle fere mi chiedo chi abbia giocato al posto nostro ci sono stati eventi strani dieci gare a fine stagione per fortuna la salvezza mancano pochi punti le pagelle Dio è un incubo Bogdan e Boben i due centrali in difficoltà si salvano solo Pettinari e Donnarum e poi il gubbio calcio gubbio show vis travolta Bulevardi e Bonini poi ambedue spulsi lanciano il rosso blu con i primi due gol nella prima frazione il solito spalluto nella ripresa firma il Trifs al Barbetti prova perfetta per signorini per l'occasione capitano vista l'assenza di Malaccaria e compagni che si rilanciano così in zona playoff settimi in classifica Franco Fonte sempre più nel vivo un giovane con la testa da veterano scrive proprio il corriere torrente si gode la vittoria visto lo spirito giusto l'anno scorso con loro due capò senza subire un tiro e poi scherza lo dando anche Sainz Masa il tecnico del gubbio stasera ovviamente approfondimento alle ore 21 su fuori gioco per analizzare tutte le tematiche che riguardano il gubbio calcio e il girone B di Serie C ma intanto facciamo il punto nel servizio curato da Federico Minelli proprio di gubbio e vispesaro sentendo poi anche le dichiarazioni post gara un piccolo stralcio delle dichiarazioni post gara di Vincenzo Torrente Trentesima giornata del girone B di C ed è duello playoff al Barbetti nel quasi derby tra gubbio e vispesaro Torrente è in emergenza in panchina solo 5 giocatori di movimento tutti Sarau escluso dal 2000 in giù il tecnico di Cetara si affida al consueto 4-3-3 chance per Tazzere Francofonte dal primo in attacco spazio a Dudu Spalluto e Sainz Mazza Banchini risponde con il 3-4-1-2 con Marcandella trequartista alle spalle del duo Tonso Cannavò la prima occasione arriva al 14esimo ed è in favore degli ospiti punizione dai 20 metri di Tonso che cerca la precisione ma trova un attento chidotti che respinge il gubbio è diesel ed esce fuori intorno alla mezz'ora di gioco da rimessa laterale al 27esimo Francofonte ripulisce e rifinisce un pallone in area scarica per Bulevardi che dal limite calcia di prima e grazie anche ad una leggera deviazione di Piccinini beffa Farroni per il gol dell'1-0 Rosso-Blu in vantaggio con il quarto gol in campionato del centrocampista siciliano la squadra di Torrente sfrutta l'inerzia al 31esimo Mazza calcia direttamente in porta da lontanissimo costringendo l'estremo difensore pesarese a rifugiarsi in corner dalla bagnerina va ancora lo spagnolo con Bonini che sbuca sul primo palo anticipa tutti e di testa sigla il raddoppio prima gioia stagionale e tra i professionisti per il difensore scuola Bologna prova a reagire la vispesora al 35esimo Tonso apre per Saccani che lotta con Bonini e riesce a calciare potente verso il primo palo con Ghidotti che sfodera un ottimo riflesso e sigilla la porta finisce con il gubbio sul doppio vantaggio la prima frazione e nel secondo tempo i rosso-blu entrano in campo per gestire e chiudere il match e così accade al 54esimo Francofonte recupera palla su Coppola arriva al limite e si prende il tiro che finisce proalato 7 minuti più tardi Dudu ruba palla centrocampo e attacca la difesa scoperta dei marchigiani apre per Spalluto che controlla e serve Sainz Mazza lo spagnolo calcia con Farroni che respinge e riesce a salvarsi prova timidamente a farsi sentire anche la Vispesaro al 68esimo palla in avanti a premiare l'inserimento del neo entrato Sanogo che sfida Redolfi e calcia di incrociare Ghidotti si distende e blocca a terra passa un minuto e il gubbio mette il ghiaccio alla partita break di Tazzer che recupera palla guida il contropiede e lancia Spalluto che con un gran coltrollo orientato lascia sul posto Piccinini e col destro a giro Fredda Farroni ottavo sigillo in maglia rosso-blu per il giovane attaccante in prestito dalla Fiorentina sempre più capocandoniere stagionale del gubbio nonostante le tre reti di vantaggio la cora della partita è piuttosto convulsa al 71esimo Saccani in ripartenza viene messo giù a Bulevardi l'arbitro Leone di Barletta vede un dubbio piede a martello da parte dell'ex Legnago ed estrae il cartellino rosso diretto nonostante l'inferiorità numerica è il gubbio a sferare il poker con la cavalcata in contropiede di Spalluto che parte da centrocampo arrivando sino a concludere in area ma Farroni è ancora reattivo e sulla ribattuta Magni non riesce ad incidere a 5 dalla fine fallo al limite dell'area di Bonini su Saccani secondo giallo ed espulsione anche per il difensore e gubbio che chiude i nuovi uomini i vissini ci provano con Cannavò che calcia una punizione da posizione defilata Tazzara sventa il pericolo con la difesa che riesce poi a chiudere finisce con un 3-0 che vale tre punti pesanti in classifica con il gubbio che balza in settima piazza a quota 40 lasciando due lunghezze dietro proprio i pesaresi sabato prossimo alle 17.30 altro scontro diretto sul campo del nobile De Caruto Siena grandissima partita complimenti ai ragazzi hanno fatto una partita eccezionale complimenti vanno a loro grande spirito di squadra di sacrificio e anche sul piano del gioco la squadra mi è piaciuta tanto quindi complimenti vanno ai ragazzi poi se uscite non uscite la prestazione è stata è stata veramente ottima abbiamo fatto tre gol non abbiamo subito gol quindi ci tenevamo a vincere questa partita visto che col pesero sia all'andata sia l'anno scorso abbiamo perso due partite senza un tiro in porta e stasera dunque alle 21 fuori gioco su TRG in serie di Foligno domina i centri il blitz Orlando in gol nel finale del primo tempo poi Cigande e Miccio chiudono i conti prova impeccabile dei falchetti che battono a domicilio San Giovannese e la scavalcano anche in classifica 0-0 invece per il Cannara che senza i big peluse fondi non va oltre il pari con il Cascina allo Spoletini Battellini al 92esimo Apoteosi Tiferno Gorini sblocca dopo tre minuti su rigore concesso per un fallo su Peraz nella ripresa il pari degli ospiti che c'entrano anche due traverse con l'ultimo episodio decisivo nel recupero il gol proprio dell'attaccante Eugubino Tommaso Battellini qui in foto a destra assieme a Gorini Battellini che peraltro è anche scrittore ha scritto proprio un libro pubblicato è il periodo natalizio girone del ritorno in cui mixa proprio calcio e letteratura ma chi sincero vinta questa partita più con l'orgoglio che con il bel gioco ancora in Serie D un Kribeck così a stellare il Trestina cala il pocherissimo 5-0 sul campo del Pro Livorno la sblocca Esusì il sigillo finale è firmato da un altro ex Gubbio come Di Cato l'attaccante marocchino parliamo di Esusì segna una triplette mette il timbro sulla rotonda vittoria contro una Pro Livorno allo sbando qui in foto invece il funambolo Kribeck grande prestazione ancora per lui in un campionato come questo mai facile vincere con questi punteggi ha detto il tecnico della Trestina Luca Pierotti veniamo all'eccellenza un monumenta fa per due salvataggi gol e sempre più otto il difensore fa spodere di Gioia l'orvietana al 94esimo Sanzisto superato per 1-0 inseguitrice sempre staccati il lama secondo resta a distanza di sicurezza la Nestor torna sulla terra 3-0 sconfitto interna della squadra marcianese contro l'Ellera si interrompe così la striscia di risultati positivi dei marcianesi 0-0 invece tra Sansepolcro e Angelana partita senza acuti vittoria in trasferta del lama che festeglia sui titoli di coda assiste su base stoico beffato al 95esimo da un guizzo di Bartolucci per i bianconeri ancora cura Silveria Bastia biancorossi in piedi poker al Ponte Valleceppi vera sorpresa di stagione il cambio in panchina dato i frutti Castelletti estirati super per il Bastia che batte 4-1 proprio la squadra del Ponte 4-1 anche dell'Olimpia Tairus contro il Castel del Piano con tripletta di Tramontano e la Ducato Spoleto si salva al 91esimo grazie al figlio d'arte Brevi classe 2004 in gol nella gara contro il Branca che era passato in vantaggio al San Giacomo di Spoleto con la rete di Marco Gaggiotti per quanto riguarda invece la situazione legata al rinvio tra Massa Martana e Gualdo Casagastalda Massi in campo ma Gualdo non c'è adesso decide il crew nessun rinvio per il Covid la gara non si è giocata in quanto gli ospiti non si sono presentati scrive proprio il Corriere e poi promozione girone A il Ventinella si è rialzato 2-0 sul campo del Montone 3-1 del Mala San Feliciano sulla Ponte Vecchio 0-0 Selci Nardi e Pierantonio e poi ancora con la vittoria del Tavernelle sulla Pieve lo 0-0 tra Mantignana Malbe e Pietralunghese 2-1 del FFC Castello contro l'Arna girone B di promozione 1-1 tra Campitello e San Venanzo 3-0 esterno dell'Atletic Bastia sul campo dell'Aromiomenti 3-1 del Petrignano sul Giulia Spello mentre la C4 espugna 2-1 il campo della Merina e conferma la vetta della classifica a più 5 dal Terni est ancora sempre promozione girone B il Guardia non si ferma più 3-1 all'MC98 3-1 anche del Monte Castello Vibio sul Todi 1-1 tra Viola e Montefranco 1-1 anche tra Superga 48 e Clitunno in prima categoria Padule San Marco informissima nel girone A Virtus San Giustino KO a Calzolaro la vittoria 2-0 del Real Padule sul campo del San Giustino 3-1 del Padule San Marco contro l'Umbertide Agape per quanto riguarda i risultati anche in prima categoria venendo invece alla Mountain Bike Orvieto Marathon Chiarini da Urlo trionfo in solitaria dominio del Team Taddei nella dodicesima edizione primo tra gli Umbri zoccolanti di Città di Castello circa 650 partecipanti alla manifestazione l'ex professionista su strada davanti a Failli e Casa Grande sempre per il ciclismo unione ciclistica Foligno che nella torre Reis proiettica Iardoni e quarto quindi l'iniziativa Corvia di Foligno oggi in Cana degli Aquiloni che sciode bimbi agonismo e solidarietà domenica speciale al cicrodomo di Corvia Volley Herme Group la marcia continua super derby per la 3M Perugia San Giustino Pieda Piega scusate i talchimici Foligno Trevi si arrende invece alla capolista 3M per quanto riguarda il basket Colpo Foligno Bene Val di Ceppo Todi e Assisi invece KO Foligno batte 74-56 Osimo dando continuità ai risultati la formazione di coach Pierotti grazie anche all'apporto dell'esperto Ribeiro qui in foto per quanto riguarda appunto il Foligno basket veniamo anche al QS inserto della nazione per quanto riguarda la Serie B il Grifo Rosso di Passione sfiora l'impresa l'1-1 con il Lecce ne parleremo poi nel Caffè Fere tre schiaffi a Vicenza primo tempo da Incubo sconfitta 3-1 come abbiamo visto sul campo Vicentino e poi il Gubbio Staripante la Vispesaro resta al palo nonostante le due espulsioni prestazione concreta per i ragazzi di Torrente non volevo alibi i ragazzi sono stati bravi come abbiamo sentito le parole del tecnico 0-0 per il Cannara con il Cascine il Foligno cinico e concreto Vannese la vittoria della Tiferno 2-1 al fotofinish contro il Rieti mentre 5-0 come abbiamo visto del Trestina sul campo della Pro Livorno in eccellenza fa per due firme il successo dell'Orvietana 1-0 sul San Sisto e poi gli altri risultati 1-1 Ducato Spoleto Branca 4-0 4-1 Olimpietarius Castel del Piano 0-0 Sansepolcro Angelana il Lama dunque che torna la vittoria 2-1 sul campo della Sise Subasio 2-1 anche della Narnese su Castiglione del Lago 3-0 dell'Ellera sul campo della Nestor 4-1 del Bastia sul ponte Valle Ceppi domenica intanto ci sarà il big match per quanto riguarda il campionato di eccellenza con Narnese Orvietana e poi la palla a volo trionfo Sir Perugia i Block Davids estendono Trento e alzano la Coppa tifosi bianconeri in delirio alla Unipol Arena con tanto di fotoreportage le parole di Coach Gerbi ci sono orgogliosi dei miei ragazzi e sentiamola allora proprio il tecnico della Sir nell'immediato post gara che analizza proprio la partita e il trionfo in terra bolognese prima coppa da allenatore e prima vittoria così importante in Italia quindi è una mia azione sempre particolare non si viene mai annoiare di queste emozioni però devo dire che per gran parte della gara io ero un spettatore cioè come tutti gli altri perché la squadra soprattutto primi due set ha giocato una palla a volo di altissimo livello concentrati mettendo pressione in battuta essendo perfetti in cambio palla muro difesa attenti quindi è chiaro che contro una squadra come Trento mantenere questo livello uno è difficile due è difficile anche che loro non hanno una reazione come poi dalla fine l'hanno avuto per cui sono orgoglioso dei ragazzi della squadra e tutto quello che abbiamo fatto in questi mesi con tutti i sacrifici di difficoltà che abbiamo avuto le mancanze gli infortuni i covid e altre cose sono molto contento orgoglioso di far parte di uno staff come il mio e della società che è attenta a queste cose qua e di essere qui con la medaglia da prima classificata al collo Perugia regna nella pallavolo sottolinea anche il presidente Gino Sirci ha vinto il migliore il nostro pubblico è fantastico dunque dopo la partita di Casalecchio di Reno a uno femminile Bartoccini tre punti d'oro in chiave salvezza contro Ballefoglia al Palabarton importante successo per la sopravvivenza per le magliette nere veniamo anche al messaggero Grifo un pari di rimpianti in presa sfiorata al Curi uno a uno alla fine nonostante l'espulsione già nel primo tempo di Quan il risultato ci sta un po' stretto sottolinea il tecnico Alvini per quanto riguarda il rugby vittore Tavolino per la CEA Perugia e poi ancora invece Fere salto nel buglio tre sberle a Vicenza furia Bandecchi torno in campo così è uno schifo ha detto il presidente tra il sarcastico l'infuriato il patron attacca direttore sportivo allenatore in coro ci salveremo e poi la rinascita del mototrip festa per centinaia di centauri a Terni ancora Super Seer e Coppa Italia con MVP Leona la grande anche Ricicli la partenza Razzo di Perugia chiude la fiammata di Giannelli vittoria per l'Ucraina sottolinea Plotnischi e poi calcio il gubbio riparte tre colpi alla Vispesaro basket che valdiceppe Foligno sconfitte Todi e Assisi Labartocini corra tutta tre punti pesanti contro Vallefoglia il punto anche sui dilettanti colpo Foligno al momento fuori dai play-out dopo la vittoria per 3-0 San Giovanni Valdarno 0-0 Cannara Cascina 2-1 Tiferno sul Rieti 5-0 esterno del Trestina sul campo della Prolivorno in eccellenza Orvietana vittoria sul filo 1-0 contro Sanzisto 4-1 L'Impetarius Castel del Piano 1-1 Ducato Spoleto Branca mentre il Lama passa a Sisri parte il Bastia Gualdo Casagastalda fermato dal Covid e poi ancora Master di Scherma Benucci vince l'Oro siamo vicini alla chiusura non ho fatto vedere in precedenza le pagine web le faccio vedere ora in coda all'appuntamento con TG Mattino per quanto riguarda la segna stampa Gubbio Trisservito tra 0 la Vispesaro e settima piazza in classifica grandissima partita dobbiamo pensare in grande ha sottolineato Mister Torrente il nostro archivio video sempre aggiornato su www.trgmedia.it ricordo stasera l'appuntamento con fuorigioco alle ore 21 e poi Umbra 24 magnate russi in Umbra l'intelligence inglese riabilita scusate l'Ebedev il vice Johnson e poi quanto sta costando gli Umbri la guerra russi-ucrana una batosta per la ripartenza Perugia Today il punto su Perugia Lecce 1-1 ma anche sulla vittoria della Sir in Coppa Italia e poi anche il bollettino del Covid 1132 nuovi positivi e 274 guariti nelle ultime 24 ore tutt'oggi.info Covid positivi tornati sopra quota 10.000 e l'effetto carnevale l'uomo trovato morto in un'abitazione al centro di Assisi la Sir affonda 33-1 la Coppa Italia torna a Perugia questo dunque per quanto riguarda anche i siti online siamo in chiusura di questo appuntamento con la rassegna stampa che apre TG Mattino che apre la settimana informativa mattutina di TRG ma non andate via perché tra poco come ogni lunedì dedicheremo al caffè uno spazio dedicato allo sport alle squadre regionali di ogni tipo di ogni categoria questa settimana ci concentreremo sul Perugia calcio che proprio ieri ha riportato un pari per 1-1 a Lecce vedremo proprio le immagini della partita sentiremo le parole di mister Alvini lo faremo con un tifoso speciale che a breve sentiremo che narrerà anche la sua passione per i colori bianco-rossi questo tra poco ne il caffè ora pubblicità si chiude qui la prima parte dedicata appunto all'informazione con la rassegna stampa torniamo a breve proprio con il caffè del lunedì su TRG